mia figlia aaaay mora' com 2 lixo fa' ma vizira a apriu lixo percorre' da' sa vizira o apriu' ma traca' ma figlia chega chega Grazie per la visione! 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 È un'epoca che è d'agglia, è dolito Era un'apazero E poi lui avvò, le garucche, voleva solo a 177 150 km, 60 e 150 km LA Giuca è andato, vim Andato a Matteo Un'epoca è andato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti